Il gruppo Fratelli d'Avenia L'Avenia è un'azienda alimentare che da oltre 40 anni commercializza prodotti alimentari, soprattutto conserve. Ci siamo affacciati in quello che è il mondo della ristorazione, avendo poi dei partner che ci hanno dato la possibilità di crescere l'azienda e di conseguenza noi abbiamo ampliato la nostra gramma, che non è solo quella dei prodotti tipici meridionali, ma poi quello che è la ristorazione. Noi siamo anche produttori di vini, oli e prodotti semilavorati, principalmente per quei grossisti che hanno il piacere di fornirsi da noi, che a loro volta possono essere un punto di riferimento per le pizzerie e ristoranti. L'obiettivo è quello di tracciare una linea seria, scegliendoci soprattutto dei fornitori e produttori che sposino il nostro progetto, che è quello di continuamente migliorare il prodotto. Per noi l'alimentare è sacrosante. Per noi l'alimentare è sacrosante.